Ola, io sono Irino Barzano, sono uno chef italiano. Nascì in Italia, in Napoli, nascì in culinary school, la scuola dell'hotelleria. E dopo dieci anni del barco del Cusnero, con Costa Cruz Line, antes di arrivare nel 1982, a Miami, a dove io vivi, a dove io vivi per 40 anni, a dove io ho tenuto molti restauranti, come 14 restauranti. Mi fai molto bene allà, conosci molta gente illustre, come attore, cantante, come Juan Gabriel, come Cristian Castro, Armando Manzanero. Mi cucina è cucina italiana, molto sofisticata, ha fatto un plattino incredibile allà in Miami, ha ganato moltissimo premio allà in Miami. E mi restaurante è molto acclamato in tutta parte degli Stati Uniti. Cosa dire? Io sono qui in Mexico, in Acapulco, che mi piace. Acapulco, adoro Acapulco. Quindi stiamo preparando cose meravigliose qui nel Rino, facendo un plattino che sono molto conosciute, e un plattino che non si conosciute. Per questo è meraviglioso venire qui, e experimentare, e comere quello che vuole, è il che io ti voglio allà. Faccio. Ok, io sono molto semplice, posso dire che posso cucinare tutto. La cucina napoletana, io conosco tutto perché io nascì allà, e subito allà a tutti i 28 anni. e sempre comendo cose incredibili, che ora faccio qui. E poi, come in Miami, c'è un restaurante molto fino, dove la notte il menù cambiava. Cambiava di menù, faccia un plattino molto sofisticato, come lo tartufo, che è un ungo che cresce a palo della terra, e questo lo servia 4 mesi al anno, e costa come 2.000 dollari al kilo. Quindi, posso cucinare tutto. Qui facciamo cose meravigliose, e pensiamo alla pizza, che è napoletana al 100%, e lo puoi credere perché io sono di allà. Usiamo harina caputo, usiamo tomate san marzano, mozzarella che faccio io, tutto il giorno, a la mattina, faccio con il col, faccio mozzarella fresca. perché noi compriamo mozzarella, la faccio io, e voi potete venire qui, io le preparo a la messa. come ho, come il giusto? Il sabore, il sazù, è tutto originale, compro tutto quello che è italiano, diario, lo vengo a provare. Buongiorno, i platti che sono più famosi, che facciamo qui, sono le linguine con il pulpo piccolo, baby Octobus, questo è favoloso. E poi ho un salmone al limone, che è meraviglioso, con asparagos, con aceitunas, con vino blanco, limone, è incredibile. Oscar de la Hoya, questo è un messicano famoso, che tutti lo conoscono, è il papà di Enrique Guzmán. Qui abbiamo il portoriceno cantante, l'attore Eric Robert, il figlio di Giulia Robert, Julio Iglesias, Loren Bracco, una attrice americana, con Edward Holmes, qui abbiamo Don King, qui abbiamo Sofia Vergara, e questo è il nostro grande signor De Niro, Robert De Niro. E qui è il più grande di tutti, che Dio lo bendiga, dove sta ora, Juan Gabriel, questo è un amico, un amico mio grande. Ho una storia, la storia di questo famoso, che qui tengo, tengo una in particolare con Robert De Niro. Robert De Niro è un attore meraviglioso, una persona, molto gentile. E lui mi sacò, a me, dopo che lo conosci, quattro volte, con quattro pelicoli di sua, a cucinare per lui, in Chicago, in Miami, in New York, in Washington, a tutti gli altri. E per me è un amico molto, molto, molto forte. Il numero uno è incredibile. Io spero che ci sia piaciuto tutto, quello che ci sia piaciuto. Io lo spero qui, nel Restoranone di Niro, e che la passi bene, e che tutto ci sia piaciuto, che ci sia piaciuto. Molte grazie. Noi vediamo. Ciao. 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 Ciao.